Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutta la Liguria per la rimonda di un promontorio di alta pressione, ventilazione debole, mare poco mosso e clima decisamente gradevole. Per quanto riguarda il dettaglio dell'imperiese avremo soltanto qualche nuvola sparsa specialmente nell'entroterra ma senza conseguenze e vedete temperature massime che potranno anche avvicinarsi ai 20 gradi. Situazione simile anche sulla provincia di Savona con qualche nuvola sparsa specie tra notte e mattina poi ampie schiarite un po' ovunque durante il giorno e temperature molto gradevoli. Anche per quanto riguarda la città di Genova e i dintorni avremo una giornata in prevalenza soleggiata, qualche annuvolamento pomeridiano sul Pennino ma senza conseguenze. Per quanto riguarda il Tiguglio anche qui tanto sole da mattina a sera su tutte le località con un clima molto piacevole, valori massimi fino a 18-20 gradi. Infine sullo spezzino poco altro da aggiungere, anche qui giornata soleggiata e gradevole. Per quanto riguarda la giornata di giovedì avremo un graduale aumento della nuvolosità in prevalenza di tipo medio-basso con addensamenti un po' più consistenti tra Savonese, Genovese e lo spezzino. Vedete anche temperature in lieve diminuzione ma ancora una giornata asciutta. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.